C'è un nuovo scandalo nel mondo delle imprese funebri. Ora c'è anche una denuncia alla Procura della Repubblica con tanto di nomi di imprenditori ed aziende. Ci sarebbe un interesse, una commistione tra le cosiddette cruci bianche e le pompe funebri. In pratica le società, che per legge non possono avere legami, operano in sintonia. È un sistema, si legge nella denuncia, di un'azienda di Cava dei Tirreni che consente loro di accaparrarsi il trasporto e l'onoranza funebre di persone decedute negli ospedali sia di Salerno, Cava dei Tirreni e Nocera Inferiore. Tutto questo è vetato dalla legge che prevede l'assoluto divieto per le ditte operanti nel settore imprenditoriale delle onoranze funebri di poter gestire o avere cointeressi in imprese che invece svolgono attività di pronto soccorso, di autoambulanza e ciò al fine di evitare che attraverso un servizio che ha finalità prettamente medico-sanitarie l'impresa possa, nel caso di decesso del paziente, anche assicurarsi subdolamente il servizio dell'onoranza e del trasporto della salva. Tali prescrizioni dunque sarebbero disattese e questo lo si evince facilmente, continuo all'esposto all'autorità giudiziaria attraverso gli annunci pubblicitari comparsi nelle edizioni delle pagine bianche di Salerno negli ultimi anni, i quali recano gli stessi recapiti telefonici. Ed infine la costante presenza davanti all'ospedale di Nocera di autoambulanze, mentre la sala obitorio è costantemente frequentata da personale alle dipendenze di un'impresa funebre collegata alla Croce Bianca. Stessa cosa accadrebbe a Cava dei Tirreni, dove il servizio 118, continua ancora la denuncia, ha chiaramente cointeressenze con società operanti nel settore delle onoranze funebri, veicolando in tal modo gli interventi di queste ultime. Ed è qui che esisterebbe una gestione unica tra il servizio di assistenza sanitaria e quello delle onoranze funebri. Nel mese di dicembre scorso, un'impresa funebre di Nocera Inferiore sollevò lo stesso caso e portò come esempio l'Umberto I, sostenendo che lo stesso numero di telefono, sia sulla fiancata dell'ambulanza parcheggiata all'esterno dell'Umberto I, che sulla pubblicità delle onoranze e trasporti funebri, era evidente anche su dei volantini che circolavano all'interno dell'ospedale. La denuncia, con tanto di foto e compremettenti copie di inserzioni pubblicitarie, fu presentata al direttore sanitario dell'ospedale Nocerino, al direttore generale dell'Astra Salerno e per conoscenza al comissario regionale per la sanità De Luca. Su segnalazione dell'amministrazione sanitaria, l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha poi provveduto a vedare la sosta delle ambulanze all'esterno dell'Umberto I. Grazie a tutti.